Ciao da Avsim! Anche Juan Quadrado può clamorosamente lasciare la Juventus e allora parliamone perché ci sono tanti spunti interessanti. Intanto Quadrado è passato dall'essere una mascotte, un beniamino, uno dei giocatori più amati e più coccolati dalla stessa Juventus, un simbolo anche dell'amore, dell'appartenenza, del legame con la maglia alla Juve, all'essere invece uno che va buttato via, era osteggiato, ostracizzato e trattato male come era già successo ad altri suoi compagni di squadra o ex o futuri ex come per esempio Paolo Di Bala. Quadrado andava in scadenza come contratto questo 30 giugno 2022 e come sapete ha ricevuto il beneficio del rinnovo del contratto per un'altra stagione, quindi adesso scade il 30 giugno 2023, lui che da poco ha compiuto 34 anni essendo nato a maggio 1988 ma potrebbe anche andar via prima appunto clamorosamente già quest'estate e si è già parlato dell'Inter. Mettiamo insieme i pezzi e cerchiamo di capire che cosa realmente c'è dietro tra mercato, gestione di questa Rosa e di questa società da parte di questa dirigenza e quindi l'aspetto comunicativo. Il rinnovo di Quadrado infatti come ben sapete è scattato in automatico o meglio c'era un'opzione all'interno del contratto con Juan Quadrado che poteva essere esercitata da parte giocatore alla verificarsi di una serie di requisiti di condizioni, in particolare abbiamo appreso 40 presenze stagionali nel corso di questa stagione 21-22. Raggiunte le 40 presenze stagionali l'entourage di Quadrado e il giocatore hanno scelto ed erano pienamente legittimati a farlo di esercitare questa opzione di rinnovo automatico il che significa che appunto Quadrado beneficia di un altro anno di contratto alle stesse condizioni economiche precedenti e si parla di 4 milioni e mezzo barra 5 netti a stagione. Per la prossima stagione quindi, per un 34enne, per un giocatore che ha dato tanto alla Juve che appunto è stato un simbolo ma comunque è a fine carriera, sono troppi. In questo periodo sono troppi anche perché la Juventus ha tolto De Ligt e adesso forse anche ha tolto Pogba e quindi con scarsa serietà perché è un programma di risanamento che è durato pochi mesi, poche settimane ha rimodellato il monte in Gaggi e stabilendo un nuovo tetto salariale nei 7 milioni netti percepiti da Dusan Vlaovic appunto un limite che è stato già accantonato. Quindi 5 milioni, 4 e mezzo sono troppi e allora la Juventus ha cercato non sappiamo bene però con quali tempistiche, cioè se già prima dell'esercizio dell'opzione automatica o soltanto dopo di proporre a Quadrado un nuovo rinnovo, ma un rinnovo da riscrivere, non automatico andando a spalmare gli stessi soldi su due stagioni, quindi un biennale con le stesse cifre a livello complessivo ma appunto diviso 2 sulla singola stagione. Quadrado sembra abbia rifiutato, non abbia voluto minimamente trattare non abbia accettato l'ipotesi di questo prolungamento ulteriore ma soprattutto dell'abbassamento di stipendio e allora adesso sentiamo parlare di Quadrado che non è più incedibile, che è sacrificabile e addirittura potrebbe andare all'Inter cioè veramente si è passati dalla A alla Z, si è passati da uno a posto ad un altro, da un Quadrado osannato che godeva anche lui di credito quasi infinito nell'opinione pubblica e nella stampa un Quadrado che gioca sempre bene anche quando gioca male, un Quadrado decisivo anche quando è disastroso e lo è stato tante volte in questa stagione, all'avere invece un giocatore quasi separato in casa che viene a momenti cacciato e ripeto questa è una metodologia che è già stata utilizzata dalla Juventus con altri giocatori, con Ramsey che è stato dichiarato infortunato senza però un comunicato ufficiale con degli esami strumentali di cui abbiamo potuto prendere visione, con Dybala, con Dybala e non sto qui a ripercorrere tutto quello che è successo a livello comunicativo nei confronti di Dybala e che persiste perché la Juventus augura buona fortuna a tutti i propri tesserati impegnati in nazionale tranne che a Dybala che comunque è ancora tesserato fino al 30 giugno adesso lo stiamo vedendo in parte anche con Artur e ci si aggiunge Quadrado ma ci sono stati anche altri esempi, esempi anche contrari di giocatori che invece sono stati e vengono tuttora trattati benissimo nonostante magari comportamenti che possiamo anche criticare di cui possiamo ritenerci insoddisfatti ma che evidentemente godono di stima e di sostegno da parte di questa dirigenza o potrei dire personalmente da parte del presidente ecco che tipo di gestione è questa? com'è che Quadrado a un certo punto da amico diventa nemico? da simbolo diventa scarto? perché guardate scrivere, dire potrebbe andare all'Inter quando magari l'Inter non l'ha cercato quando magari l'Inter non lo vuole quando magari Quadrado all'Inter neanche ci vuole andare quando magari Quadrado poi alla fine resterà comunque alla Juventus perché non è detto che adesso viene dato via è a mio avviso proprio un modo di mettere Quadrado contro la tifoseria della Juventus quindi è questo l'atteggiamento, il comportamento che possiamo registrare che va a trattare un giocatore come uno scarto, come un rifiuto, come un nemico tra l'altro gli interisti giustamente se la sono presa per questo accostamento con Quadrado perché se c'è una tifoseria che odia Quadrado più di chiunque altro in Italia e nel mondo quella è la tifoseria interista per tanti episodi che ci sono stati certo sarebbe interessante che è proprio ora che Perisic se n'è andato vada proprio Quadrado all'Inter non a sostituire Perisic perché giocherebbe sull'altra fascia ma a poter giocare all'Inter senza dover litigare appunto con il Croato a parte questo, ripeto, forse Quadrado non ha nessuna intenzione di andare all'Inter e l'Inter non ha nessuna intenzione di prendere Quadrado che comunque andrebbe pagato, perché il rinnovo c'è quindi non è che la Juve adesso lo lascia andare a zero il rinnovo è stato fatto, non si tratta di un acquisto a zero Quadrado nel caso sarebbe un acquisto oneroso o magari anche in prestito, va bene, ma comunque non sarebbe un parametro a zero in prestito per una stagione per poi prenderlo a zero una volta scaduto il contratto con la Juve cioè trattato come i peggiori scarti, come Ramsey quasi come Ramsey che è stato mandato in prestito per disperazione e adesso addirittura si andrà forse alla rescissione per Ramsey perché non si sa, nel senso molto spesso infortunato giocatore fragile, ma giocatore che si è comportato sempre in maniera corretta a quello che apprendiamo dall'esterno prende un sacco di soldi ma non li ha scritti lui nel contratto e qui torniamo al discorso di una dirigenza che fa tutto il contrario di tutto accampando evidentemente la scusa dei disastri fatti dall'amministrazione precedente è un po' come un'amministrazione comunale, un'amministrazione locale si insedia il sindaco, funzionano male le cose ma è colpa di quello di prima e si va avanti sempre così e non è mai colpa di chi sta amministrando in quel momento e non ci si assume mai le responsabilità di quello che succede perché chi ha fatto il contratto a quadrato sicuramente non arriva bene quindi se adesso arriva bene, si è insediato e sbandiera la sostenibilità e nel nome della sostenibilità vuole adottare una metodologia diversa con i giocatori quindi usare il pugno duro e dire se non ci servi decido io che cosa devi fare a me sta anche bene, mi sta anche bene però è patetico come viene gestita la cosa a livello di tempistiche ripeto perché non so se a quadrato è stato proposto questo prolungamento biennale con spalmamento dell'ingaggio su due stagioni anche prima di aver raggiunto le 40 presenze ma mi auguro di sì perché sarebbe patetico impuntarsi contro quadrato che non ha nessuna colpa, attenzione, che non ha nessuna colpa senza essere intervenuti a tempo debito se arriva bene che sapeva e doveva sapere del contratto di quadrato e dell'opzione di rinnovo automatico avesse voluto scongiurare queste ipotesi avrebbe dovuto accelerare i tempi per il rinnovo di quadrato ben prima delle 40 presenze stagionali o al più avrebbero potuto dire ad Allegri senti cerca un po' di sistemare la situazione ma non far giocare a quadrato 40 partite perché sennò siamo nei guai potevano trovare un modo per evitare questo rinnovo automatico e per avere il coltello dalla parte del manico invece si sono abbandonati alla situazione forse confidando in un atteggiamento del giocatore che non era assolutamente dovuto e le cose sono andate male cioè quadrato non era tenuto a sedersi a trattare perché c'è un'opzione di rinnovo automatico nel contratto che non ha inserito lui è stata inserita nella contrattazione delle parti ma è stata accettata dalla Juventus ci sono le firme altrimenti non ci sarebbe il contratto e quindi per quanto possa essere colpa di paratici scarichiamo la responsabilità sull'amministrazione precedente l'amministrazione attuale qualcosa di diverso avrebbe potuto e dovuto fare invece di ridursi appunto in extremis per poi adottare questa strategia del muro contro muro questa strategia del nemico pubblico che viene così spiattellato in pubblica piazza viene esposto al pubblico ludibrio della tifoseria che fino a un attimo prima l'aveva amato e osannato come uomo aziendalista come calciatore aziendalista calciatore simbolo della società veramente imbarazzante tutto questo e io sinceramente non mi va di assumere alcuna funzione ecco di leader politico o di qualche in qualche modo capopopolo o guida delle vostre opinioni assolutamente io sono qui ad esprimere le mie opinioni argomentandole per anche stimolare il vostro le vostre riflessioni, le vostre argomentazioni però chiaramente mi sembra sensato dire che questa società, questa dirigenza tratta i tifosi come clienti e questo è chiaro, è evidente, è palese ma nel peggiore dei modi perché di qui ai prossimi mesi, ai prossimi anni finché questa dirigenza sarà ancora quella che vediamo e speriamo che invece cambi molto presto quanti altri giocatori verranno bruciati da questa macchina del fango se così possiamo chiamarla quanti altri nostri idoli o giocatori che ci sono simpatici potranno passare dall'essere apprezzati all'essere scaricati semplicemente perché si sono comportati male secondo il codice etico moralizzante da convento, da monastero imposto non si sa bene da chi cioè qui si tratta di essere amici del presidente e va tutto bene nemici del presidente e va tutto male nel mezzo ci sono delle valutazioni, ripeto, moralizzatrici che sono insopportabili insopportabili Quadrado ha fatto qualcosa che era nel suo pieno diritto per quanto riguarda il contratto cosa c'è da lamentarsene? era qualcun altro che avrebbe dovuto agire in maniera diversa poi io, lo ricorderete ho anche criticato Quadrado per questo atteggiamento perché tra l'altro appena fresco di rinnovo automatico giocò delle partite imbarazzanti proprio in maniera indolente proprio svogliato senza un minimo di riconoscenza per una società che appunto gli aveva riconosciuto quest'opportunità clamorosa di andare a prendere un sacco di soldi ancora totalmente immeritati per l'età e per la prospettiva ma ho anche detto, e in quel momento era così che però Quadrado ancora non veniva osteggiato dalla società in quanto ancora con questa figura addosso del simbolo del giocatore simbolo del giocatore amato mentre qualcun altro appunto veniva osteggiato ora, mi sembra che si sia raggiunta una certa coerenza a questo punto perché viene trattato male Quadrado così come sono stati trattati male gli altri che erano meno amici però dare del coerente a uno che fa due volte una cosa insopportabile due volte una cosa meschina non è un complimento e non è una gioia cioè meglio essere coerenti indubbiamente ma se sei coerente nella meschinità non è che sia tutta questa meraviglia non è che sia tutta questa gratificazione tutta questa cosa positiva e di questo stiamo parlando un atteggiamento meschino nei confronti di diversi giocatori in maniera coerente a questo punto ma comunque un atteggiamento meschino quindi qualche cosa di sbagliato, di insopportabile quante altre volte succederà? quanti altri nemici pubblici verranno individuati e verranno definiti anche ai nostri occhi così che possiamo comportarci di conseguenza? perché poi il tifoso giuventino cosa fa? non critica mai questa società non critica quasi mai questa società, questa dirigenza tutto quello che fa questa dirigenza va sempre bene e se critichi devi andare a tifare un'altra squadra e chi osa mettersi contro questa dirigenza come si permette il giocatore X di dare contro di non essere allineato di non comportarsi bene prendi e te ne vai fai il pacco e te ne vai da un'altra parte questo purtroppo è il comportamento l'atteggiamento, il pensiero di una parte della tifoseria che però è controproducente perché non ci porta a crescere non ci porta ad analizzare i limiti, gli errori, i difetti in funzione di migliorare e quindi se non siamo consapevoli e non accettiamo che questa dirigenza possa avere dei limiti, dei difetti e commettere degli errori dove pensiamo di andare? solo più indietro, solo più in basso solo a sprofondare, a commetterne altri di errori a evidenziarne altri di difetti ma io dico non è che questa dirigenza ha qualche limite, ha qualche difetto e commette qualche errore è un disastro è una dirigenza indegna che, ripeto, è una cosa veramente meschina che io sopporto anche meno di un errore di mercato l'errore di mercato nell'acquisto, nella cessione o l'errore tecnico di programmazione lo puoi fare magari anche ingenuamente in buona fede ma questi comportamenti qui sono in mala fede lo capite che ci mettono un giocatore contro e mettono la tifoseria contro un giocatore perché vogliono ottenere un determinato effetto perché vogliono in qualche modo costringere il giocatore a fare qualche cosa cioè a sedersi al tavolo delle trattative per fare come dicono loro altrimenti viene trattato in questo modo questo, diciamo, è pugno duro in un certo senso ma va usato in maniera corretta in maniera coerente anche con una progettualità e soprattutto con i tempi giusti non come ripicca non come ripicca se tu non hai fatto tutto quello che potevi fare per trattare la situazione contrattuale di quadrado secondo le tue esigenze con chi te la vuoi prendere? con il giocatore che ha fatto quello che era nel suo pieno diritto? poi se nel frattempo la cessione di quadrado dovunque dovesse andare dovesse portare all'acquisto di Molina di Nauel Molina dell'Udinese sarebbe un upgrade però qui facciamo un piccolo passaggio sul mercato di cui abbiamo parlato anche ieri in live e vi ricordo che ogni lunedì sera ci sarà una mia live una mia diretta con voi per chiacchierare con voi con gli argomenti più caldi della settimana e probabilmente molto spesso con il mercato e diciamo proprio questo ma qual è il modulo della Juve l'anno prossimo? perché se è il 4-3-3 ok mi serve il terzino ma diciamo che ci sarebbe Danilo purtroppo è stato rinnovato anche De Sciglio quindi se va via quadrado è vero che De Sciglio non è assolutamente integro però ecco magari ci si potrebbe affidare a De Winter come terzino destro da far crescere senza andare a spendere altri soldi nel momento in cui va via quadrado se c'è il 3-5-2 bisogna invece prendere qualcuno come esterno perché Danilo farebbe il braccetto destro di difesa 3 quindi serve un esterno di fascia in attesa di Chiesa però poi a quel punto la trattativa per Di Maria che senso ha? e quindi anche qui bisogna capire Molina sarebbe ottimo per interpretare il ruolo di terzino destro basso cioè a partire dal basso dalla linea 4 per poi ovviamente far la fascia e come già detto parliamo di un giocatore valido 10 anni più giovane di quadrado perché è nato il 6 aprile 98 titolare con l'Argentina con la nazionale maggiore dell'Argentina da un anno da giugno 2021 ha saltato pochissime partite le ha fatte quasi tutte per 90 minuti lui che proviene dal Boca che però l'aveva girato varie volte in prestito e appunto dopo l'ultima stagione in Argentina da 16 presenze poi insomma lì anche la divisione del calendario è un po' diversa comunque da titolare nell'ultima stagione nelle ultime due stagioni grossomodo in Argentina è da due stagioni all'Udinese dove ha accumulato 31 presenze l'anno scorso con oltre 1900 minuti 37 presenze quest'anno con quasi 2800 minuti aggiungendo anche due gol e cinque assist l'anno scorso otto gol e gli stessi cinque assist pure quest'anno terzino valido un upgrade nel senso che vai a prendere ecco un 24enne diciamo quasi 25 al posto di un 34enne quasi 35 però quanto ti costa Molina? e quello che spendi per Molina ti consente di spendere poi anche per gli altri ruoli? perché per esempio è a sinistra che abbiamo un grosso problema come terzino poi appunto servirebbe un esterno alto d'attacco servirebbe un regista perché in tutto questo stiamo trattando Pogba ma il regista chi è? soprattutto nel momento in cui se ne va Artur mettiamo un'altra volta Locatelli Mancini che magari qualcosina pure lui di calcio capisce anche se come allenatore come CT non mi piace l'ha detto che Locatelli come regista sarebbe adattato non è il suo ruolo perché Locatelli è una mezzala quindi dove sta andando questa Juve? chi è il vicevlaovic? quanto ti costa il vicevlaovic? chi gioca esterno sinistro? chi gioca esterno sinistro? costi ci titolare tutta la stagione e sarebbe un upgrade rispetto ad un Kulusevski o magari rispetto a Cristiano Ronaldo che avevamo un anno fa? di questo poi dobbiamo parlare cioè dove sta andando il mercato della Juventus e per quanto Molina possa essere un upgrade c'è poca chiarezza e ripeto il tempo stringe perché adesso se prendi Molina dipende anche dalla situazione quadrato e la situazione quadrato quando viene definita nel senso se adesso devono sedersi al tavolo della trattativa per eventualmente questo ulteriore rinnovo quanto tempo dura la trattativa? quando lo sapremo se sarà saltato o sarà andata a buon fine? e se salta poi appunto quanto tempo hai per andare su Molina? lo devi prendere nel frattempo e poi devi cercare di cedere il quadrato? insomma con tutte le altre operazioni pure da fare è una situazione abbastanza complicata ma quello che veramente mi fa specie lo ripeto è il trattamento meschino in malafede di questa dirigenza nei confronti di giocatori che a un certo punto si rivelano nemici per qualche motivo o che vengono additati come nemici per un discorso di proprio interesse e non perché necessariamente abbiano fatto il male della Juventus o abbiano fatto qualche cosa discorretto e quindi ci stanno sostanzialmente trattando come come tifosi come ultima ruota del carro perché non abbiamo più neanche il diritto di gioire ed esultare per giocatori che ci piacciono di innamorarci di giocatori che ci piacciono di sostenerli di stimarli perché a un certo punto la società ce li mette contro e purtroppo c'è una parte della tifoseria che segue questa società come un pappagallo e quindi tutto quello che questa società impone come punto di vista viene accolto e quindi hanno ragione loro ha ragione questa dirigenza quando cerca di metterci contro qualche giocatore perché c'è quella parte di tifoseria che li segue e loro lo sanno lo sanno troppo bene e quindi c'è anche una responsabilità a un certo punto del tifoso di essere un tifoso libero un tifoso pensante un tifoso autonomo per evitare per evitare che questa dirigenza possa far di noi dei burattini guidarci e manovrarci come meglio ritiene non per il bene della Juventus e per l'interesse della Juventus ma per il bene l'oro e l'interesse loro come dirigenti così hanno sempre ragione e restano insediati al loro posto e la Juve in che direzione va nel caos più totale o nella distruzione programmata a cui stiamo assistendo grazie per la vostra attenzione parliamo allora del caso quadrado parliamo anche di una sua eventuale cessione e dell'upgrade se così può essere con Molina ditemi la vostra nei commenti like al video se vi è piaciuto e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi contenuti abbonatevi a questo canale per sfruttare tutti i vantaggi a partire dalla programmazione quotidiana con orari e argomenti dei nuovi video in uscita oltre all'accesso alle chat riservate sul mio server discord a partire da soli 99 centesimi al mese ci vediamo molto presto e sempre forza Juve grazie a tutti i nostri a partire grazie a tutti i nostri Grazie a tutti